Sono sei le liste che sostengono la candidatura a sindaco di Anna Maria Casini per la coalizione civica Noi per Sulmona. L'ufficialità è arrivata in giornata. Si tratta di Sulmona al centro, adesso Sulmona, alleanza per Sulmona, avanti Sulmona, obiettivo 2026, movimento democratico. Proseguono nel frattempo gli appuntamenti con i tavoli di lavoro per costruire il programma di mandato partecipato utilizzando la consolidata formula del World Café. Domani mercoledì 4 maggio, alle 18.30, nel Sol Kitchen, in via Volta e Sulmona, la candidata sindaco, Anna Maria Casini, parteciperà all'incontro tematico con cittadini e candidati consiglieri i quali si confronteranno in maniera colloquiale proponendo idee e soluzioni che verranno successivamente rielaborate in un report finale utile per la realizzazione del programma di mandato condiviso. Saranno trattati temi legati all'urbanistica, ai servizi e allo sviluppo urbano analizzando proposte e progetti di riqualificazione del territorio. Si tratta del terzo incontro proposto dalla Casini. Finora la riflessione si è concentrata sullo sport e l'agricoltura. Finora la riflessione